Ho visto dei numeri che fanno tre mari polsi, i miei uffici mi hanno chiamato l'altra settimana e mi dicono Assessore, guardi noi abbiamo un problema. La platea potenziale a Trieste, in tutta la regione attorno alle 45.000 passa famiglia, a Trieste siamo a 10.900. 10.900 nuclei familiari che potrebbero avere reddito di cittadinanza, che potrebbero arrivare a chiedere cosa? A obbligarsi, perché la legge obbliga i comuni ad avviare i famosi lavori socialmente utili. E giustamente i cittadini che sono ascolto, è bello da Roma, i deputati, i ministri, i sottosicoli, facciano lavori socialmente utili, vanno a spazzare per terra, vanno a tagliare l'erba. Sì, ma bisogna gestire questa massa critica gigantesca, ma un comune, perché per gestire i lavori socialmente utili ci vogliono. L'assicurazione. L'assicurazione che può variare dai 200 addirittura ai 700 euro. La formazione, la vestizione, perché sapete che oggi, guai, tutta la norma di legge, norme di sicurezza, perciò divise di lavoro, cose, preside, quindi arriviamo a 500 cada uno. Lei prova a immaginare se questo può stare in piedi dal punto di vista dell'organizzativo. E non è solo questo. I miei uffici dei servizi di anagrafe, perciò l'anagrafe, i servizi di residenza, dovranno fare indagini per capire dieci anni, se quel famoso paletto dei dieci anni, da quanto tempo sono. Insomma, puoi immaginare se questo cosa comporta per gli uffici. Quante persone le servirebbero? Chiediamo a Di Maio.